Non sono punato lì, io c'ho. Forse dovevo cambiarli prima di fare sulle alberi. E va bene, passa, passa. Comunque sa dire sulle alberi. L'està non ha presolata, anche perché io dicevo di sì, che avevo fatto sull'Ikea. L'attrezzatura l'avevo rompata, l'aveva droppata a me, compagni. Sa volta, righei una squadra, compagni. E mi sono messo a fare il progetto. Visto che l'era in Trentino Alto Adige, me la sono intagata. Se tratta di regione autonoma, soldi tanti e roba grossa. Me cugnale mi fa crompare il nuovo quartiere. Ma parliamo delle albere. Trasformare gabbie dei cunei giganti in quartiere di legno di design, ecco. E appartamenti uno di fronte all'altro, libizine, roba che se te te muovi o te fai impetti lo sa. Insomma, creare qualcosa in città. Forse, ecco, ricordo, voleria dei fasoli con la mosa. Nel senso di tradizione e aria nuova, ecco. Sì, ecco, le sono in idea, eh. Un po' di carne salata. Il paragone potrebbe apparire un po' complesso. Ma non è facile far digerire le albere a tutti, eh. Mi pareva che con la gastronomia forse... Le albere, tu fuorché la casa, eh. E le costa. Ma che tre nuovi sottopassi. Non so cosa che serva, anche perché d'un da uno e fuor dall'altra. Tanti mi ha domandato e spiegarmi. Sì, allora... Ma adesso, spiegarmi, non sono convinto che pericoli che magari dico formonade, no? Capisce? Hai capito? Ecco, ecco, meglio di no. Che è l'acqua, ecco. Livi thing che volevo far deviare in Piazza di Fera l'Hades per le Vigiliane. L'idea era anche bella, eh. Se feva la tonca del design, perché mi piace l'acqua. Ecco, ho pensato dei canali tipo Venezia, no? Dodese per Dodese, dei filari di alberi mi avevo disegnato, progettati finti, gli hanno messi veri. Ecco i risultati, no? Legni che smarzi, insomma, addio albere. Vabbè, chissà cosa che sarà in futuro. Vedremo cosa sarà in futuro. Gli rifarà, eh.